Nel lunedì delle riaperture sono 97 nuovi casi di covid registrati in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 2.270 tamponi molecolari e 1.306 test antigenici per un tasso di positività complessivo della 2,7 per cento. Il più giovane tre contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 88. La provincia con il maggior incremento di casi è quella di Chieti, ne sono 51, seguono l'Aquilano e il Terramano con rispettivamente 23-15 casi, meglio nel Pescarese dove i casi registrati oggi sono appena 6. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. Oggi inoltre 183 guariti e un solo decesso, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9.057, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi 419 pazienti, 13 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica, mentre 44 sono quelli in terapia intensiva. I numeri sono favorevoli, dicono i medici, ma non bisogna abbassare la guardia. Conosciamo oramai bene questo virus e sappiamo le sue potenzialità, specialmente non dobbiamo dimenticare che l'ultima variante che ha circolato in Abruzzo è quella inglese, che è capace di infettare con poche copie, che riesce a avere dei tempi di incubazione molto protratti e che, come tutte le altre varianti, può essere infettiva anche nei portatori asintomatici. A preoccupare soprattutto la cosiddetta variante indiana, che in queste ore sta mettendo in ginocchio l'ex colonia britannica. Il ministro della Salute e Speranza ha deciso di blindare i confini nazionali per chiunque sia stato in India nelle ultime due settimane. Noi dobbiamo stare molto attenti a non importare varianti con una nuova capacità di offendere prima ancora che la copertura vaccinale ci abbia messo al sicuro dalle varianti di interesse europeo e che hanno avuto la massima circolazione. Chiaramente quando noi saremo in una situazione di circolazione endemoepidemica, cioè di piccoli numeri che continueranno dentro una gestione accorta di tutti i casi sospetti, col sequenziamento precoce, noi potremo far argine efficacemente all'esposizione alle nuove varianti e quindi potremmo permetterci anche di riprendere sistematici contatti con queste parti del mondo attualmente così terribilmente ferite. Però adesso dobbiamo stare molto attenti perché una quarta ondata ci metterebbe davvero in ginocchio. Grazie a tutti.